All'indomani delle accertate estorsioni e danni di una pizzeria catanese, confermate nell'ambito dell'operazione della Guardia di Finanza sulle aste giudiziarie pilotate, spuntano fuori i racconti del pentito Pippo Amore. Nel mirino del clan Ercolano era finito il locale al vicolo pizza e vino. Aldo Ercolano, a capo della Cosca e mandante indiscusso delle richieste estorsive, sarebbe stato a sua volta rimproverato da sui stessi fidati collaboratori. Non avrebbe punito i proprietari del locale, che avevano sporto una denuncia che ha condotto poi all'arresto di Giuseppe Amore, uno degli uomini migliori, divenuto poi collaboratore di giustizia. Questo è quello che è un quacquara qua. Sono le parole di Sebastiano Cavallaro, ancora indagato, in riferimento ad Aldo Ercolano. L'uomo si trovava a bordo della sua auto insieme alla moglie, dalle parti della pizzeria. Aldo Ercolano non sarebbe stato abbastanza capace di farsi ascoltare, secondo le parole degli uomini a lui vicino. Cavallaro avrebbe affidato il suo sfogo anche ad un altro indagato, Giuseppe Finocchiaro, preoccupato per la posizione di Pippo Amore, così esposto. Amore era stato arrestato nel novembre del 2013, in flagranza di reato, proprio durante un tentativo estorsivo alla pizzeria al vicolo. In seguito alla decisione di collaborare, Amore ha ammesso di essere stato assieme a Francesco Condorelli nel tentativo di estorsione, dietro ordine di Benedetto Zucchero, reggente del gruppo della stazione della famiglia Santa Paolo Ercolano. Il mandante sarebbe stato proprio Aldo Ercolano. Grazie a tutti insieme a cantare